15 persone in tutto intossicate dai funghi non commestibili negli ultimi giorni in provincia di Arezzo. Il bilancio è tracciato dalla ASLA Toscana Sud-Est che invita tutti i cittadini che non sono sicuri della raccolta a recarsi presso uno dei centri di riconoscimento per verificare la bontà o meno di quanto è raccolto. Sei delle persone intossicate sono di Arezzo città, le altre della provincia e, dopo essere ricorsi agli interventi del pronto soccorso, si trovano adesso in fase di ripresa. In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso ed in seguito a un primo bilancio certo non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi, dichiara il dottor Leonardo Gianneschi, responsabile dell'ispettorato micologico della ASLA Toscana Sud-Est. Innanzitutto, dice il dottore, è raccomandabile di sottoporre i funghi raccolti a consulenza di esperti ai vari sportelli micologici del territorio. Si raccomanda, inoltre, dice il dottore, di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie. Infine consigliamo di non far mangiare funghi ai bambini, agli anziani o dai malati. La consulenza agli sportelli micologici è del tutto gratuita. Altrettanto frequenti, sempre rimanendo in tema di raccolta funghi, sono gli incidenti che, soprattutto nel fine settimana, si verificano nei boschi e nelle foreste dell'Aretino. Solamente negli ultimi dieci giorni in provincia di Arezzo sono stati numerosi gli interventi effettuati dai pompieri dalla personale sanitario della emergenza urgenza e dalla soccorso alpino, da semplici episodi di smarrimento fino a ferimenti veri e propri per i quali è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'episodio più grave è quello di un 61enne che purtroppo è stato trovato cadavere mentre si trovava a raccogliere funghi. A lieto fine, invece, l'incidente che ha coinvolto un 88enne che, dopo essere caduto da una scarpata ed essersi ferito ad una gamba, ha dovuto trascorrere la notte in mezzo al bosco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Per lui provvidenziale è stata la presenza dei suoi due cani che lo hanno protetto da eventuali attacchi di animali selvatici e scongiurato l'ipotermia.